Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di UD News TV. Apriamo prima di tutto dando uno sguardo ai principali fatti nazionali e internazionali per poi dedicarci alla cronaca locale. Partiamo con la svolta di Conte sui 49 migranti delle navi Sea-Watch e sugli altri 249 che sono a Malta da dicembre. C'è un limite al rigore, ha detto infatti il Premier in TV, annunciando che l'Italia è pronta ad accogliere almeno donne e bambini. Per sbloccare la situazione anche Parigi e Berlino riceveranno 50 persone ognuna, a patto che anche gli altri paesi membri dell'Unione Europea partecipino. Altri 10 andrebbero in Portogallo, 6 in Olanda e 6 in Lussemburgo e anche la Romania è pronta a riceverne qualcuno. L'Unione Europea ipotizza di trasferire solo chi può avere asilo, ma la soluzione non trova affatto d'accordo Salvini. Non cambio idea, afferma, non sbarca nessuno. Allora manderò un aereo, taglia corto Conte. Ci sono anche tensioni con la Lega in merito al decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. La Lega infatti punta i piedi. Non ci sono i soldi per i disabili, afferma, così non lo votiamo. Si dicono deluse infatti le fonti del carroccio. I fondi li abbiamo aumentati, c'è una legge delega sul nuovo codice sui diritti dei disabili, replica il Presidente del Consiglio, ma se ci sono suggerimenti, afferma Conte, li analizzeremo. Anche stavolta troveremo una soluzione. Garanzia sui bond fino a 3 miliardi di euro, azioni per un miliardo, un fondo al tesoro da 2 miliardi. Sono i soldi messi in campo dal governo nel decreto per andare in soccorso di carige. La banca dovrà presentare un piano entro due mesi. Sul salvataggio si è acceso lo scontro politico con il PD che ipotizza un conflitto di interesse per Conte che è stato a socio. Sostengono i Dem di Guido Alpa, a lungo consigliere di carige, e consulenti di Raffaele Mincione, banchiere socio della banca. Ma fonti di Palazzo Chigi replicano nessun conflitto di interesse. Negano infatti che il Premier sia stato consulente di Mincione e rispetto a Guido Alpa sottolineano come Conte non abbia mai avuto con lui uno studio professionale associato. Il Presidente della Repubblica Mattarella nella serata ha inoltre firmato il decreto legge varato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera. Parliamo ora della Procura di Torino che ha chiesto il processo per 12 persone e 6 aziende accusate a vario titolo di associazione a delinquere e frode in commercio per la produzione e la vendita di prosciotti italiani realizzati con carne di suini danesi etichettati come di origine protetta. Si tratta del filone torinese della max inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo che nei mesi scorsi ha inviato a una ventina di procure italiane tra cui quelle di Cunio, Bergano e anche Pordenone i fascicoli relativi ai reati commessi per l'accusa nelle loro aree di competenza. Nelle scorse settimane 6 persone e 2 aziende hanno patteggiato una pena pecuniaria per l'accusa di frode in commercio. La Commissione europea ha accolto la domanda presentata da Francia e Germania che la invitavano a esaminare alla luce del regolamento sulle concentrazioni la proposta di acquisizione di chantier dell'Atlantic, nuovo nome di CETEX, da parte di Fincantieri. Secondo la Commissione l'operazione rischia di nuocere in misura significativa la concorrenza nel settore della costruzione navale a livello europeo e mondiale. L'Eliseo chiarisce nessuna forma di ritorsione politica. Il Premier Conte si è detto dal conto suo sorpreso della decisione dell'antitrust europeo. È un procedimento all'inizio, afferma Conte, vedremo come continuerà. Riterrai strano che fossero imposti ostacoli, mi auguro che non ci siano. Gravissimo quanto accaduto, hanno invece riferito sulla vicenda a fonti della Lega, Francia e Germania scorrette affermano, questo mette in discussione tutti gli accordi. Se l'Europa esiste, ha affermato il Vice Premier Salvini, ci sia parità di regole e di condizioni di mercato per tutti, altrimenti ne trarremo le conseguenze. E ancora rispetto agli esteri, decolli sospesi e poi ripresi nella serata Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l'avvistamento di un drone non identificato vicino allo spazio aereo dello scalo. La misura, un'ora circa di stop, è stata presa precauzionalmente per evitare, come spiegato, ogni minaccia alla sicurezza operativa dei voli, mentre si cercava di accertare la natura dell'incidente. Un caso analogo, rimasto non chiarito, aveva causato a dicembre lo stop totale dei voli per due giorni a Gatwick, secondo scalo londinese. Veniamo ora al Friuli Venezia Giulia, ieri vi abbiamo raccontato la storia di un senza tetto di 80 anni, di Udine, che nelle scorse settimane si è visto sottrarre, sparire più volte le coperte che gli erano state donate, proprio per ripararsi dal freddo perché dorme per strada. Oggi siamo andati a sentire Caritas e Croce Rossa, attive proprio sul territorio per aiutare i poveri assoluti, dunque abbiamo cercato di capire meglio il fenomeno. Vediamo. Sono una settantina a Udine e comuni limitrofi le persone che trascorrono il giorno e la notte in strada. Italiani e stranieri, tutti accomunati da una povertà non solo economica, ma anche e soprattutto relazionale. Caritas e Croce Rossa sono impegnate quotidianamente sul territorio per portare ai senza tetto un aiuto concreto che non sempre viene accettato. Delle 109 persone intercettate dall'equip di contatto della Caritas nel 2018, solo 27 hanno intrapreso un percorso di reinserimento. La nostra unità di strada cerca di ricostruire quel minimo di relazione per cui queste persone incominciano a sentirsi di nuovo che c'è qualcuno che li considera, ma non come destinatari di assistenza, ma come persone. Le storie non possono emergere, storie di fatica, di dolore, se non nel tempo e di fronte a persone delle quali ci si fida. Quindi il nostro impegno è soprattutto quello di ricostruire piano piano degli spazi di fiducia e di relazione. Un saluto, un riconoscimento, un chiamare per nome le persone può essere anche molto più terapeutico di quanto noi crediamo. La Caritas di Udine al momento gestisce due dormitori, oltre al Fogolar con 23 posti, che nel 2018 ha accolto un centinaio di persone, da lunedì attiva anche la struttura di via Marangoni con altri 20 posti. A questi si aggiungono i 13 posti letto del dormitorio da poco attivato dalla Croce Rossa nella sede di via Pastrengo. Riusciamo con gli operatori che sono stati appositamente preparati a questo approccio a riuscire a far capire a queste persone che possiamo dargli un letto caldo, un posto caldo per passare la notte, gli offriamo di fare la doccia e la mattina gli diamo la colazione. Tendo a precisare che sono per la maggior parte i nostri concittadini. Lasciate pulito, non siamo a Napoli, civiltà significa rispetto della città in cui si vive. L'immagine di questa scritta, apparsa nella mattinata su alcuni cassonetti dei rifiuti di una via residenziale nella prima periferia di Pordenone, è diventata virale e ha spopolato nella giornata sui social con migliaia di visualizzazioni e polemiche anche in Campania. Risale a un periodo lontano l'immagine di Napoli, sfigurata dalla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, ha scritto in una lettera inviata al sindaco di Pordenone Ciriani una referente del comune proprio di Napoli, Flavia Sorrentino. Civiltà, afferma, significa rispettare una comunità che rappresenta la terza città d'Italia e che, per vocazione storica e geografica, è capitale del Mezzogiorno. Quel cartello, ha commentato invece il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, ha indignato tutti i pordenonesi di oggi e di ieri, napolitani che abitano qui da sempre e appena arrivati. Ma non dobbiamo ingigantire questa storia, afferma Ciriani. Il comune non solo ha preso le distanze, ma ha provveduto, appena informato dell'accaduto, a rimuovere i tre fogli. Il gesto scelerato di un singolo individuo, conclude Ciriani, non può minare la storia di una città che è fatta di generosità e altruismo, apertura mentale e condivisione. A Magnano Rinviera, invece, da oltre due settimane gli abitanti non stanno ricevendo la posta. La nostra Luciani Delfonso ha raggiunto il comune nella serata proprio per capire che cosa sta succedendo. Allora, sentiamo le interviste raccolte. Abbiamo sentito diversi amministratori dei comuni limitofi e purtroppo il problema è un problema generalizzato che coinvolge diverse comunità e diversi comuni. Purtroppo stiamo parlando di una società privata che ha una sua organizzazione e di conseguenza è difficile riuscire veramente a risolvere il problema in tempi brevi. Da parte nostra, come abbiamo già fatto in passato, comunque cercheremo di far sentire la voce dei nostri concittadini perché si tratta di un servizio che, seppur gestito in forma privata, è un servizio pubblico e quindi il servizio va garantito nei tempi e nei modi corretti. Molti cittadini, alcuni dei quali ci hanno raggiunto anche qua, uno dei problemi principali è l'arrivo delle bollette in ritardo che li costringe anche poi al pagamento di una mora. Per esempio, lei che problemi ha avuto? Problemi che apposta da circa un mese non ricevevo. Mi sono presentato all'ufficio postale di Tarcento che mi hanno poi mandato all'ufficio centrale di Gemona. Gemona parlo con un responsabile che dice che la posta per loro è tutta evasa però guarda caso il giorno dopo, il pomeriggio, mi è arrivata circa una ventina di posta, pacchi, lettere, di tutto. Io credo che a questo punto le poste dovrebbero fare un passino indietro e continuare a fare come una volta la posta. Le poste secondo me non devono fare le banche, non si devono occupare di telefonia mobile, poste, telegrammi, pacchi postali perché purtroppo gli utenti sono molto disagiati a questa situazione e sta diventando insostenibile. Ecco, anche altri casi, noi parliamo per esempio anche con questo signore, lei che problematiche invece ha avuto? Le stesse del concittadino e in più, nonostante tutte le mie rimostranze, i giri a Tarcento, a Gemona, nell'ufficio qui a Magnano dove però devo dire in tutti e tre i posti ho trovato persone disponibili, gentili, però non hanno saputo risolvere i problemi. Il problema è proprio per quelle persone che praticamente non hanno il conto corrente, non hanno la domiciliazione delle loro bollette per cui si trovano, ricevono una bolletta scaduta e a quel punto lì devono pagare more, sì, non è corretto insomma. Poco fa abbiamo parlato delle polemiche nate dalle scritte trovate a Pordenone ma all'attenzione dei media nazionali è arrivata anche la polemica scoppiata in questi giorni a Resia dopo che il parroco Don Alberto ha scritto un messaggio ai compaesani per stigmatizzare l'abbigliamento alla messa di alcune giovani coscritte. Vediamo. Doveva rimanere un messaggio tra parroco e fedeli per richiamare tutti a un abbigliamento più consono quando si entra in chiesa ma la forma, il linguaggio utilizzati gli hanno fatto travalicare i confini della Valresia arrivando anche all'attenzione dei media nazionali. Se le famose cosce di prosciutto di San Daniele soffrono il mercato, scrive Don Alberto, a Resia un altro tipo di cosce non conosce ombra di crisi. Sono quelle delle giovani resiane, re, stando al parroco, di essersi presentate in chiesa con minigonne troppo mini. Una mancanza di rispetto verso il corpo della donna, dice Don Alberto, verso gli altri e verso il sacerdote e la colpa, scrive il parroco, è delle mamme. Apriti cielo. Sui social e in particolare sul gruppo Facebook 6 di Resia se i commenti si accavallano. C'è chi critica il linguaggio ma condivide la sostanza del messaggio, chi lo boccia completamente e chi avrebbe preferito invece un richiamo diretto. Il sindaco di Resia, Sergio Chinese. Conosco molto bene tutte le ragazze, non hanno nessun griglo per la testa e devo dire che insomma una presa di posizione così forse è stata un po' esagerata. Ma quel che invece dovrebbe preoccupare tutti sono stati naturalmente le prese di posizione sui social media. Perché senza conoscere i fatti e si sono scatenati opinioni e idee contrastanti di persone che chi ne ha mai viste qua. In diocesi l'imbarazzo è palpabile. Nessuno si espone. Meglio lasciare sbollire polemiche e tensioni e rifletterci un attimo serenamente. Contattato da noi al telefono, Don Alberto non ha voluto aggiungere altro. Sono dispiaciuto, si è limitato a dire, per la bagara scatenata da un messaggio destinato ai soli fedeli di Resia. Vediamo ora altri importanti fatti di cronaca sintetizzati nelle nostre flash news. Il 45enne è stato accoltellato stamattina verso le 7.30 tra via Flavio e via Benussi a Trieste. Il malcapitato ha chiesto aiuto a un edicolante che lo ha soccorso e ha chiamato le forze dell'ordine. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato portato a Cattinara. Immediatamente, da parte delle volanti, è scattata la caccia all'uomo e sarebbe stato fermato un sospettato. Secondo le indagini della polizia, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno di un appartamento. Grave incidente stradale stamattina verso le 9.30 sulla Ponte Bana, a Zoppola, in prossimità dell'aeroporto Baracca. Per causa in corso di accertamento, una Ford e una Audi si sono scontrate e nell'impatto quest'ultima vettura è finita in un canale. I due conducenti, un uomo e una donna, sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo da alcuni passanti e portato l'ospedale di San Vito al tagliamento, mentre la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata a Udine con l'eli soccorso. Uscita autonoma di un mezzo pesante nella tarda mattinata di oggi. Un camion guidato da uno sloveno stava percorrendo la 56 in direzione Udine, quando tra Manzano e Butrio ha perso il controllo del mezzo. L'uomo non ha rimediato ferite. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale dell'Udine a Tisone insieme alla polizia e i vigili del fuoco. I carabinieri della stazione di Cividale hanno rintracciato quattro minorenni kossovari privi di documenti e di permesso di soggiorno. I giovani clandestini sono stati accompagnati nel centro di accoglienza della città ducale. La bambina friulana di 9 anni, rimasta ferita gravemente lo scorso 3 gennaio sulla pista nera di Sappada, dopo essersi scontrata durante un alleamento con una ragazza di 19 anni, si è risvegliata dal coma farmacologico. La giovane respira autonomamente e, secondo quanto fatto sapere dall'ospedale udinese Santa Maria della Misericordia, dove era stata ritrasportata in codice rosso, il personale medico la giudica in miglioramento. Incidente stradale invece intorno alle 21 nel comune di Perteole. Una fuoriuscita autonoma di un'auto con a bordo una sola persona, rimasta ferita nell'impatto. Una persona che però non risulta fortunatamente in pericolo di vita, come confermato dai carabinieri di Palmanova. Approvato questa mattina dalla Giunta Comunale di Udine il bilancio di previsione per la città, tanti investimenti in programma per oltre 30 milioni di euro e nuove assunzioni di personale. Zinaco, l'assessore ha parlato di un bilancio tecnico ma anche politico. Qual è il taglio politico che avete voluto dare? Il taglio politico è di rifare investimenti e quindi di muovere un po' una massa di soldi per dare lavoro perché ricordiamo che chi lavora qui a Udine saranno imprese, spero imprese regionali, che abbiano l'opportunità di fare questi lavori. Poi c'è l'aspetto di nuovi assunti, quindi nuovi giovani che entrano a far parte della macchina amministrativa comunale e anche questa è un'altra sfida importante che vogliamo portare avanti perché l'amministrazione comunale è una cosa importante, è molto vicina ai cittadini e dobbiamo dotarla sempre di figure che siano professionalmente preparate e soprattutto che abbiano nuove energie per fronteggiare i prossimi anni. I 36 milioni vanno un po' dappertutto, dalle strade, dagli asfalti, ai marciapiedi, poi le opere che sono legate magari ai grandi avvenimenti, mi riferisco alla Casa Cavazzini dove dobbiamo migliorare la recettività delle opere d'arte in questo luogo che è dedicato a un museo importante e poi c'è il castello dove abbiamo un grosso contributo anche da parte dei privati per rifare le facciate ma anche noi siamo impegnati grazie a un contributo regionale a fare un impianto di risalita per permettere alle persone magari in una certa età di poter salire su su piazzale del castello senza dover fare una camminata abbastanza impegnativa. C'è il museo etnografico che anche questo avrà dei contributi per la sistemazione e miglioramento e poi le scuole, le scuole elementari, abbiamo degli interventi importanti in alcune scuole della città che ha bisogno di manutenzioni straordinarie che ci impegnano per quasi 5 milioni di euro. Enti locali, polemica interna alla comunità collinare con i sindaci schierati da un lato all'interno dell'ex UTI e dall'altro nel consorzio. Continua a far discutere quella che è la diatriba tra quella che è la comunità collinare e l'UTI collinare. C'è stato un incontro in regione che è seguito, un incontro che era già avvenuto durante il quale di fatto ho partecipato io come Presidente dell'Assemblea assieme al Presidente dell'ECDA Mirico D'Affarra per portare di fatto un documento che avevamo condiviso in sede di assemblea del consorzio della comunità collinare che ci ha trovati d'accordo nel fare un percorso assieme nel riportare funzioni, servizi e potenzialità anche superiori al consorzio della comunità collinare. Ma questo non è stato sufficiente da parte comunque di quei comuni appartenenti all'UTI i quali hanno deciso anche di confrontarsi direttamente indubbiamente il percorso che sta compiendo la collinare l'unico percorso nel quale si è deciso di raggruppare tutti i nostri comuni e di andare avanti verso una direzione condivisa è l'unica assemblea nella quale è stato condiviso un documento di questo tipo e quindi è l'unico contenitore possibile per un percorso futuro. Qual è quindi ora il futuro di questi due enti? Di fatto, come è già stato espresso più volte, nella nuova legge per le enti locali che si sta andando a costruire in questo anno in corso ci sarà lo svuotamento, quindi l'eliminazione delle UTI e quindi l'unica realtà che resterà presente e l'unica realtà, ripeto, che rappresenta comunque tutti i 15 comuni e che li ha rappresentati per più di 50 anni è il consorzio della comunità collinare. Dispiace di fatto che ci sia un po' un'ostinazione da parte di qualcuno nel voler contrastare, tenendo magari viva una parte di quest'area qua dell'UTI appunto, con azioni come quelle che possono essere di fatto l'astensione durante l'assemblea o azioni simili quindi mi auguro veramente che si trovi veramente la volontà di percorrere in modo unito questa strada qua che ci deve di nuovo portare ad avere un consorzio comunità collinare forte e con piene funzioni e servizi. Coinvolgerà otto scuole medie e superiori delle province di Udine e Pordenone per un totale di oltre 2.000 studenti l'ottava edizione del progetto educativo a scuola con le frecce tricolori organizzato in collaborazione con la pattuglia acrobatica nazionale e ufficio scolastico regionale e sostenuto dalla fondazione Friuli. Ci sono otto uscite è una sorta di giro delle due province di Udine e Pordenone attraverso le scuole facciamo otto uscite all'anno dedicate sia agli istituti superiori che ai comprensivi in particolare nei comprensivi la cosa che ricordo del tour dello scorso anno che è stato il mio primo tour qui in fondazione c'è il silenzio assoluto quando prenderà parola il pilota delle frecce tricolori credo che anche questa sia una bella lezione. Le frecce tricolori è una squadra composta da circa 100 uomini e donne che lavorano quotidianamente così come uomini e donne dell'aeronautica militare 365 giorni all'anno per garantire la sicurezza del paese per garantire un risultato nel caso delle frecce tricolori è quella dell'esibizione della manifestazione aerea. È un'esperienza anche per noi perché noi di lavoro non facciamo questo nel senso noi metto nei panni dei piloti o comunque del sotto ufficiale che lavora quotidianamente sul velivolo non facciamo questo di lavoro però è un'occasione per noi per imparare anche dai più giovani la società ovviamente si evolve i giovani di oggi sono diversi rispetto a come eravamo noi cerchiamo di imparare di apprendere il più possibile anche noi da loro alla base di tutto non solo per far parte dell'aeronautica militare o per far parte di una organizzazione ben strutturata quale l'aeronautica militare ma per raggiungere gli obiettivi nella vita bisogna lavorare lavorare duro come ho detto prima si comincia dai banchi di scuola per passare poi nel mondo dell'università o negli istituti di formazione delle varie forze armate dell'aeronautica militare per poi arrivare nel mondo del lavoro preparati con dei valori ben saldi grazie mille a lei grazie ancora un mese saranno ultimate le riprese della nuova Fiction Rai volevo essere una rock star girata a Gorizia a Cormons e in altre località della regione nel cast Giuseppe Battiston e tanti altri volti noti con il goriziano Matteo Leotto come regista vediamo 180 giornate di ripresa 3 milioni di euro superati abbondantemente come spesa di produzione a fronte di un finanziamento di 280 mila euro della regione 1700 comparse di cui 170 di Friuli Venezia Giulia Veneto e Slovenia numeri che danno un'idea della mole di lavoro per la preparazione di Volevo fare la rock star la nuova Fiction Rai girata soprattutto a Gorizia e Cormons una scelta tutt'altro che casuale quella fatta dal regista goriziano Matteo Leotto noto per il suo film Zorani Mio nipote Scemo la storia è ispirata ad un blog di una ragazza nata e cresciuta in Romagna e quindi quando diciamo sono stato ingaggiato come come regista ho pensato che era giusto portare la storia qua serviva una storia serviva delle location diciamo che qui abbiamo e diciamo e io questo territorio lo conosco e lo amo e quindi ho deciso di portare qua di ambientare qui in questo territorio la storia e quando parlo di questo territorio parlo insomma di abbiamo girato la serie tra Gorizia e Cormons e poi qualche Cappatina a Trieste qualche giorno a Lubiana insomma però il grosso è stato tra Gorizia e Cormons la fiction ha come protagonisti Giuseppe Battiston e Valentina Bellè affiancati da tanti volti noti tra cui quelli di Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda per me è stata una scoperta ero terrorizzata quando mi disse che dovevo stare qua per sei mesi e invece dopo dopo due mi sono innamorata mi sono innamorata del Friuli sono molto contenta di essere qua di raccontare che si racconti questa bellissima storia e che si racconti questa terra che è la mia terra e quindi qui il Friuli Venezia Giulia non è uno scenario ma siamo noi in questa terra che ha quel sapore asprino che chi è di qua conosce e che speriamo di far conoscere e apprezzare dal 2 al 9 marzo ritornerà anche quest'anno a Udine la settimana del design l'obiettivo è promuovere la città puntando su qualità e creatività valorizzando le attività commerciali che fanno del design un punto di forza ne abbiamo parlato con l'ideatrice Anna Lombardi questa presentazione ha portato altre idee altri supporter che speriamo si concretizzino in una nuova edizione ricca di eventi come lo è stata quella dell'anno scorso l'oggetto collettivo di design partecipato che sarà misterioso e itinerante e poi il design in bottega e poi il design in vetrina i negozi che parteciperanno con dei loro eventi o con dei eventi organizzati da noi una mostra culturale un omaggio alle donne e speriamo in tanto pubblico che giri per la città di Udine godendosi lo shopping e il territorio perché il design non è solo progetto industriale ma è progetto del territorio parliamo ora dell'udinese è arrivata l'ufficialità della firma di Stefano Caca l'attaccante arriva in prestito fino a giugno dal Watford insieme a lui in attesa dell'ufficialità ha svolto le visite mediche anche l'esterno sinistro olandese Marvin Zagelar e a proposito di Ocaca primo allenamento con il gruppo nella seconda seduta della giornata l'attaccante si è subito gettato a capofitto per tentare di apprendere quanto prima i dettagli di Nicola domani alle 13 in diretta su DNews la presentazione ufficiale doppia seduta per l'udinese la prima delle tre fissate questa intensa settimana di ripresa da mister Davide Nicola fari puntati sull'allenamento del pomeriggio il primo di Stefano Caca da giocatore dell'udinese la punta arriva in prestito fino al prossimo 30 giugno dal Watford e sarà presentato domani alle ore 13 in diretta su DNews Okaka è chiamato a Darmanforte ad un reparto che ha dovuto fare i conti con l'assenza di peso all'interno dell'area del rigore proprio questa è stata una delle motivazioni sottolineate dal responsabile dell'area tecnica Prade nel presentare questa importante addizione alla Rosa Okaka ha subito faticato con i compagni immergendosi negli schemi di Nicola per provare a velocizzare al massimo il fisiologico processo di apprendimento dei dettami tattici del mister intanto lui si è subito cimentato insieme agli altri attaccanti nelle prove tattiche e soprattutto nelle esercitazioni di finalizzazione che lo staff tecnico ha riservato agli attaccanti nella seconda parte dell'allenamento biglietto da visita dell'ex Watford una spettacolare rete in rovesciata che sia un buon presagio si ricompone man mano il gruppo a disposizione di Nicola che ha potuto riabbracciare anche Macise e Pussetto rientrati oggi dal Sud America e subito agli ordini del mister si aspetta anche l'innesto di Zegelar che intanto ha svolto le visite mediche insieme a Dokaka in attesa del crisma dell'ufficialità del trasferimento dal Watford sempre più carte nel mazzo di Nicola dunque nonostante l'attenzione del mister sia come sempre tutta per il campo con la classica full immersion tattica sia in mattinata dove dopo una lunga seduta in palestra ci si è concentrati sul possesso palla che nel pomeriggio quando il tecnico ha lavorato sui meccanismi dispensando già indicazioni e contromisure in vista della gara col Parma il tempo per inserire i giocatori e trovare sempre più certezze non manca e allora questa sosta prolungata con il gruppo gradualmente al completo va capitalizzata immediatamente senza disperdere nessuna seduta e lavorando anche con uno caca in più e questa nostra edizione del telegiornale si conclude con il consueto approfondimento accade oggi a cura di Guido Gomirato grazie per l'attenzione e buona serata l'8 gennaio del 1952 nasce a Raveo Sergio Vriz ex bianconero nel periodo d'oro dei bianconeri dopo anni di anonimato mi riferisco al periodo che va dal 1978 al 1981 in bianconero conquista la promozione in B 78-79 segna due gol che diventano 5 l'anno dopo in Serie A e poi altri due nell'80-81 quando concluderà dopo 85 presenze e 9 reti la sua avventura sicuramente positiva con la maglia bianconera Vriz era una mezzala di raccordo abbastanza veloce dotato di una buona tecnica dal rendimento costante in precedenza prima di esaltarsi con la maglia dell'Udinese aveva giocato nel Pordenone poi nel Chieti e nel Verona dopo il triennio bianconero è passato al Pordenone con cui ha chiuso la carriera attualmente collabora con la Federcalcio del Pordenonese con la Federcalcio